Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla, siamo qui con un anniversario abbastanza particolare, perché proprio un anno fa circa è uscita Attack of the Totem, l'ultima mappa di Black Ops 4, l'ultima mappa della storia etere e la conclusione per quanto riguarda la storia di quei personaggi. Proprio in questi giorni stiamo discutendo tantissimo del fatto che potrebbe tornare etere proprio come storia, come location, armi e tanto altro che hanno creato appunto questa storia incredibile che ha forgiato, a mio parere, tutto quanto quello che è stato zombie, ma senza i personaggi storici, senza Primis, Ultimis e Victis, già ai tempi Craig Abston disse che era per loro l'ultimissima mappa, e di recente Nolan North e Steve Bloom su TikTok, cosa veramente stranissima, hanno comunque confermato l'assenza dei loro personaggi, specialmente Nolan North ha confermato Rick Toffin non tornerà assolutamente in nessuna versione né Primis né Ultimis. Quindi chiaramente questa è veramente l'ultima sponda per cui possiamo agganciarci ancora a questi vecchi personaggi, specialmente l'ultima volta che possiamo giocare con i Victis, dopo tutto abbiamo giocato con Primis e Ultimis tutti quanti assieme ad Alpha Omega, e questa era appunto la conclusione di una storia veramente decennale e incredibile, che era stata comunque una svolta parziale perché c'era ovviamente il ciclo infinito di Black Ops 3, mentre Black Ops 4 era un'alterazione di quel ciclo e una specie di conclusione finale per quanto riguarda tutti questi personaggi e le loro storie. Per in qualche modo controbattere comunque Monty, perché alla fine nella storia di Black Ops 3 loro vengono in qualche modo fregati da Monty, perché Richtofen con il suo piano delle fiali di sangue chiaramente riescono loro a sopravvivere, ma lui con uno schiocco di dita li ha fatti sparire, e l'ultimo secondo ha deciso, no, in realtà ho un posto per voi, ovvero durante la primissima Grande Guerra con anche i bastoni, che era un bel finale, diciamo, era carino, ma era appunto un ciclo completamente infinito, non era una vera e propria conclusione soltanto, funziona in questo modo per questa storia. Per quanto riguarda invece quello che abbiamo visto su Black Ops 4, era interessante appunto questa alterazione, e la cosa più bella era l'incontro A-Classified tra Primis e Ultimis, che quello era veramente un crossover gigantesco, e molti si aspettavano in seguito anche i Victis, che abbiamo poi appunto visto in questa mappa a Tag der Toten, mentre Alpha Omega era la prima volta che tutte e due, le crew grosse, Primis e Ultimis, si erano già incontrate, e hanno giocato tutti quanti assieme. La cosa strana di Tag der Toten, che appunto, come ho già discusso in diversi video, non sembrava così tanto questo finale gigantesco e incredibile, questo endgame, diciamo, stile Avengers, come in realtà doveva essere, in realtà avere magari 12 personaggi, tutti quanti a rotazione, come è un pochino anche Alpha Omega, non sarebbe stato affatto male, mentre noi incontriamo soltanto i Victis, e sentiamo la voce di Nicolai, che generalmente cita le nostre indicazioni, e ci dice che cosa fare, e se siamo Stullinger possiamo anche ovviamente, come al solito, sentire la voce di Richtofen Ultimis, che sì ci fa compagnia, sì è interessante, è un tuffo al passato di Black Ops 2, ma non è nulla comunque di così particolare o incredibile, e purtroppo non è nulla di particolare e incredibile, neanche la mappa, perché già da tipo gennaio o febbraio, quando uscì Dead of the Night, c'è stato un primissimo leak, che parlava del fatto che stessero creando l'ultimo Gauntlet del gioco, ancora ai tempi i Gauntlet non c'erano, per una mappa ghiacciata, molto probabilmente un remake di Call of the Dead, e così alla fine è stato, ne abbiamo discusso, mi ricordo per due o tre mesi, prima del lancio della mappa, tutti dicevano, sarà un remake di Call of the Dead, sarà un remake di Call of the Dead, e dato che tutti quanti a ruota ogni settimana lo ripetevano di continuo, ho pensato che fosse molto molto probabile, e alla fine così è stato, e già sicuramente in sé la mappa Call of the Dead, non è sicuramente una delle preferite della community, e di conseguenza Attack of the Totten non l'è stata affatto, perché generalmente, non è proprio il top come gran finale, traspetti della mappa gigantesca, epica, incredibile, Call of the Dead già di base non è che sia qualcosa di assurdo, è comunque un'ottima mappa, e magari nella sua versione originale, con VR11, Sciacallo e Giorgio Romero, è una mappa comunque un pochino più particolare, e gli easter egg anche era uno dei primissimi easter egg, veramente grossi e divertenti da fare, subito dopo quello di Ascension. Mentre chiaramente su Black Ops 4, per come è impostata la mappa, l'unica cosa che tutti si ricordano, è il fatto che c'è la strategia della finestra singola, dove fai il round 100 in tipo meno di due ore, e il 200 in meno di dieci ore, che è qualcosa di veramente imbarazzante, già su Black Ops 4 ci sono strategie, veramente incredibili e assurde, qua tra Helion Salvo, Cannon e Zeus, strategia del cartucero da bandito e altro, è qualcosa di veramente incredibile. E anche il ritorno di altre armi, appunto come la stessa pistola fulminante, la versione alternativa a Tundergan, la Wunderwaffe stile Cecchino, che assomiglia metà tra Wunderwaffe e metà Sciacallo, e funziona la versione peggiori in assoluto delle due armi, è qualcosa di veramente strano, perché alla fine, sì, lo Zeus è bello e spettacolare, ma era tipo la quinta o sesta volta che andavamo a vedere quell'arma, perché dopo King of the Art Totten, Ascension, poi l'abbiamo rivista in Zombie Chronicles, poi l'abbiamo rivista di nuovo in questa mappa, è bella, è un'arma storica, come anche la Wunderwaffe, però in questa versione da Cecchino, che secondo me era veramente molto debole e neanche divertente, era un pochino sprecata, e forse troppe Wunderweapon, neanche così interessanti o uniche, sarebbe stato interessante rivedere di nuovo il VR11, rivedere lo Sciacallo, in versioni magari potenziate, perché su Black Ops 1 fanno veramente il giusto. Quindi di nuovo, come è stato per Black Ops 4 molto spesso, occasioni un pochino sprecate, per quanto riguarda quello che si poteva fare, quello che si poteva vedere, per personaggi, storia, armi, easter egg e tanto altro. Io che generalmente neanche sono un grande appassionato di easter egg, ho saputo che quello di Tugler Totten è relativamente quello meno interessante, e quello meno divertente, per quanto quelli di Black Ops 4, a mio parere, non siano nulla di eccezionale, e anzi molto spesso inutilmente tediosi, ho giocato comunque quello di Alpha Omega, ho visto quello di Blood of the Dead, quello di Five Voyages e simili, e quello di Tugler Totten non mi sembrava affatto interessante, e di nuovo nulla di particolare, sembra essere la caratteristica principale di questa mappa, che invece doveva essere molto, ma molto particolare. Sono sicuro che a qualcuno questa mappa può piacere, e lo posso anche capire, perché per alcune motivazioni è comunque divertente, è interessante le modifiche che hanno apportato tutto quanto, e alla mappa originale, però è chiaro che per Black Ops 4, che è stata una successione di spaccature, o anzi decimazione per quanto riguarda la community, perché già il gioco non era interessante, i DLC incastrati diversamente, e questo il gran finale, per cui molte persone non erano d'accordo con quello che è successo, alcuni dicevano, sì questo è il finale giusto, ha senso per tutto quello che è stata la storia di Primis, Ultimis e Victis, è la conclusione corretta, per tanti altri invece dicevano, no è assolutamente sbagliato, volevo vedere qualcosa di completamente diverso, o anzi questa fantomatic grande guerra, che molto spesso era citata, e doveva essere teoricamente il gran finale, quindi Monty contro Shadow Man, e noi in mezzo che ci intromettiamo, per cercare di sopravvivere, che era un pochino quello che è successo su Black Ops 3, e Revelations dava un pochino quell'atmosfera, Lugger Totten molto meno, mi aspettavo qualcosa di veramente epico, gigantesco, e comunque l'assenza generalmente di Dr. Monty, e di Shadow Man, soltanto citati e visti nei filmati conclusivi, che è veramente poco, e il finale per quanto riguarda i nostri personaggi, che semplicemente si suicidano, e cancellano tutto quanto, che sì, ha senso, sì funziona per come è costruita la storia etere, ma poteva essere magari un finale un pochino più carino, un lieto fine, che lo è per magari Samantha e Teddy, per tutti gli altri personaggi, si può dire che, non avrebbero mai avuto un vero lieto fine, ma qualcosa di un pochino più carino, di quella cosa, veramente allucinante, che un pochino è stato il finale, ha senso generalmente, per come è costruita la storia, per il fatto che in realtà i nostri personaggi, neanche si prendono così seriamente, ma insomma è stato come al solito, un bel colpo al cuore, e anche Craig Alston, che mi ricordo che mentre ne parlava, un pochino si è messo addirittura a piangere. Come descrivere Tag Der Toten, una appa strana, in un gioco strano, in una storia ancora più strana, veramente qualcosa di incredibile, che generalmente, ripeto, poteva essere molto di più di quello che purtroppo è stato, è comunque una appa giocabile, come sempre ripeto che a mio parere, Black Ops 4 è valido, si può recuperare, e ci sono un pochino di cose interessanti, ma molto spesso magari si parla di potenziale sprecato, tante cose che potevano essere fatte molto molto meglio, in maniera comunque differente, che magari sulla carta suona benissimo, ma magari la realizzazione non è granché. Però per quanto riguarda aver avuto anche la storia Chaos, in mezzo che sicuramente ha cambiato i piani di Treyarch, generalmente la mancanza di budget, la corsa a finire il gioco, per poi lavorare su Black Ops Cold War, che vedremo tra relativamente poco tempo, sono stati veramente tanti tanti problemi, ed è un peccato, perché invece fino a Black Ops 3, che tutto stava andando molto molto bene, si vedevano le casse infatti come si deve, la storia che stava prendendo comunque una buona piega, ed era comunque sensata, su Black Ops 4 ci sono stati un pochino di cambiamenti, o un pochino di avvenimenti, che relativamente sono strani per quanto riguarda, come è sempre stata la storia, un cambio di direzione molto particolare, che boh magari era la scelta giusta, o magari non lo era. Per cui ragazzi voglio sapere come sempre le vostre opinioni, se vi è piaciuta questa mappa, se vi è piaciuta comunque gli avvenimenti, i cambiamenti che sono stati fatti su Black Ops 4, specialmente nell'ultima parte di Season, con il cosiddetto Iter Returns, tra Alpha Omega e Tugger Toten, se avrebbe avuto senso magari fare qualcosa di differente, proprio come mappa al posto di Call of the Dead, come remake, qualcosa di staccato o di differente, e avere utilizzato i Victis come, diciamo, crew giocabile, al contrario di Primis e Ultimis, che erano quelli un pochino più importanti, che sì, erano lì al fallo che stavano, tra virgolette, festeggiando, o si stavano preparando, ma si potevano comunque interagire magari in maniera molto differente, o molto più sensata, i personaggi, e fare comunque scelte differenti. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto, trovate qui sotto in descrizione il link per i miei social che vi invito a seguire, tra cui Instagram, Twitch e Discord, vi invito a seguirmi anche qua su YouTube, e ci vediamo come sempre, a un prossimo video, un abbraccio, Ava!